Buonasera, mezzanotte e 33 minuti, ultima e breve edizione del nostro telegiornale. E' sempre più alta la tensione per quanto accaduto in Siria. Il presunto attacco chimico a Duma ha irrigidito la posizione degli Stati Uniti e del Presidente Trump che vuole punire i responsabili, chiunque essi siano. Anche la Cina vuole la verità, mentre la Russia poco fa ha bocciato la proposta USA di un'indagine indipendente ONU definendola inaccettabile. Forse mai come in questi giorni i rapporti tra Musk e Washington sono stati così difficili a rendere complicato il dialogo tra le due superpotenze e la crisi siriana con i suoi recenti sviluppi drammatici. Da ultimo il presunto attacco chimico sulla città di Duma nella guta orientale. Il dossier è arrivato sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocato d'urgenza. L'ambasciatrice americana Nikki Haley ha chiesto all'intervento dell'ONU. La storia ha detto registrerà questo come il momento in cui il Consiglio di Sicurezza ha adempiuto al proprio dovere o ha dimostrato il suo totale e completo fallimento nel proteggere il popolo siriano. In ogni caso gli Stati Uniti risponderanno. Dichiarazioni che sono suonate come minacce per il rappresentante diplomatico russo. Un attacco militare contro la Siria può avere gravi ripercussioni, ha avvertito il rappresentante. L'ambasciatore di Mosca ha puntato il dito contro la Casa Bianca che, a suo dire, starebbe deliberatamente alimentando le tensioni internazionali. Anche la Francia accusa la Russia di sostenere il regime di Bashar al-Assad. Questi attacchi, spiega l'ambasciatore di Parigi, si sono verificati con l'accordo tacito o esplicito della Russia. Il Cremlino però continua a negare che l'aviazione di Damasco abbia utilizzato il gas sulla popolazione e per questo chiede che l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche si rechi immediatamente a Damasco. Per la politica italiana c'è sempre meno intesa fra Di Maio e Salvini. Il leader della Lega spinge per coinvolgere la centrodestra, ma il candidato premier dei Cinque Stelle ribadisce che ci sono zero possibilità che si vada al governo con Berlusconi. Tensione sempre più alta tra Salvini e Di Maio e il leader del Carroccio dice ci sono il 51% di possibilità di fare il governo tra centrodestra e Cinque Stelle. La risposta è immediata da parte del capo politico pentastellato che ribatte c'è lo zero per cento di possibilità che il Movimento Cinque Stelle vada al governo con Berlusconi e con la mucchiata di centrodestra. Per i Cinque Stelle dunque le posizioni restano fissate su due punti, no a Berlusconi e la premiership per Luigi Di Maio. E proprio Di Maio ripete, si parla tanto di presidenti del Consiglio che non hanno preso neanche un voto e invece io che ho preso 11 milioni di voti mi devo fare da parte, fatemi capire. E Salvini ribadisce, devi scegliere tra Berlusconi e il cambiamento del paese. Contro risposta di Salvini, è Di Maio che mi interessa meno di zero. Il centrodestra si è presentato chiaro agli italiani, unito con nomi e cognomi e facce riconoscibili ed è la coalizione che ha preso più voti, se a qualcuno sta antipatico o qualcun altro e in nome di questo vuole fare saltare tutto e vuole tornare alle elezioni, noi siamo pronti. E poi aggiunge, o ci sono i numeri e vengono fuori solo con un accordo serio e scritto tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle, oppure di fare il ministro solo per fare il ministro non ho voglia. Se Di Maio vuole incontrarmi, io sono pronto. Dobbiamo una rettifica. Questa sera nell'edizione del Tg delle Venti avevamo dato notizia delle mancate dimissioni del senatore Gianni Pittella da parlamentare europeo. Ebbene, stasera Pittella, in un post su Facebook, ha precisato che dopo l'elezione al Senato ha inviato una mail al presidente Tajani con le dimissioni dal Parlamento di Strasburgo. Questo era dovuto. In Calabria, per la cronaca, un'autobomba ha provocato la morte di un uomo, Matteo Vinci, 42 anni, ferimento del padre, ricoverà adesso in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'auto sulla quale viaggiavano è esplosa mentre stava percorrendo una strada di campagna all'Imbadi, nel Vibonese. L'ordigno ad alto potenziale sarebbe stato collocato sotto la vettura e azionato con un radiocomando. La vittima, Matteo Vinci, che aveva fatto il rappresentante di Medicilani, nelle ultime elezioni comunali si era candidato con una lista civica. L'Imbadi è il regno incontrastato da sempre della Cosca Mancusa, uno dei gruppi storici dell'Andrageta. Era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento.